La terapia infiltrativa oramai è diventata uno standard di cura nei pazienti con artrosi perché in molti casi riesce appunto a ridare mobilità e a ridurre il dolore. Accanto all'utilizzo nella medicina umana, nell'uomo, si sta facendo anche l'impiego nella medicina veterinaria. Noi ne parliamo con il dottor Piero Boni, veterinario a Perugia, che abbiamo incontrato a Roma in occasione del quinto simposio nazionale dell'antiage. Allora, dottor Boni, perché infiltrare l'animale? Quali sono appunto le indicazioni, le situazioni cliniche in cui può essere utile? Gli animali che vengono portati alle nostre osservazioni cliniche per problemi osteoarticolari sono animali in genere che provengono da storie di problematiche ereditarie. Mi riferisco alle displasie dell'anca, del gomito, che sono molto diffuse. Per queste patologie la chirurgia finora ha offerto validissime opportunità, se non che i costi in particolare sono in taluni casi proibitivi. La scelta dell'infiltrazione quindi, oltre che per questo motivo, non esclusivamente di budget, è stata da me presa in considerazione anche per le risposte che abbiamo ottenuto. La ripresa rapida, l'impatto relativamente piccolo sull'animale, la sedazione breve, la non ospedalizzazione, sono tutti requisiti che hanno permesso l'approfondimento di questa tecnica. Ecco, lei qui al congresso ha presentato un caso clinico molto interessante che in sala ha suscitato molto interesse, molto colpito. Ecco, il problema era relativo a un vitellino che non riusciva a deambulare per bene. Ma esattamente cosa aveva quel vitellino? Ecco, le terapie infiltrative si sono quindi reste disponibili per curare altri tipi di patologie, non necessariamente artriti, artrosi, quindi patologie articolari, ma anche legamentose. In questo caso abbiamo un vitello con una rottura del legamento crociato anteriore e qui abbiamo usato l'infiltrazione come terapia lettiva sulla scorta dell'esperienza già fatta con un numero di circa 40 casi nei cani. Questo per quale motivo? Operare del legamento crociato a un vitellino era difficile, l'ospedalizzazione, il ricovero, il costo, mentre con la terapia infiltrativa questi problemi si sono ridotti e il successo ovviamente, che abbiamo visto dal filmato, ci dà ragione della scelta. Come sta il vitellino? Il vitellino adesso si alza da solo, riesce a prendere il latte autonomamente, quindi io immagino che nei prossimi mesi ci saranno ulteriori miglioramenti che vi farò sapere. Comunque il vitellino gode di ottima salute. Grazie. Senti, allargando il discorso, quindi quali sono le situazioni cliniche nell'animale da reddito, come appunto il vitello, piuttosto che non nell'animale da compagnia in cui, a suo parere, la terapia infiltrativa può dare dei buoni risultati. La terapia infiltrativa negli animali da reddito, in particolare dei bovini, è utile nelle patologie della rotula, del ginocchio, quindi nella bovina con il crampo rotuleo e con le patologie dell'anca, sempre nella bovina adulta, che sono patologie invalidanti, tanto da rendere difficile non solo la deambulazione, ma l'alzarsi. Ora un animale che pesa 4, 5, 6 e più quintali, che rimane a terra per più di 8 ore, è candidato a non rialzarsi più. Quindi questo tipo di approccio sicuramente, che tra l'altro non prevede tempi di sospensione per l'uso delle carni, perché non trattiamo di antibiotici, di antinfiammatori, è ovviamente molto interessante. Grazie a tutti.